I quadri quando venivano portati nelle chiese facevano la deambulazione per strada, la gente li acclamava oppure li guardava male secondo di come ci si identificava, però ritornare ad un rapporto tra la gente e il gioco delle armi diventa molto vitale ed è una risposta intelligente a basso prezzo alla Biennale di Venezia.